Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. La parola di Dio viene incensata. Una parola onorevole. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Bethlehem. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Qui diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mongiatoria, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori, che per nottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro greggio. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è un segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoria. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava a Dio e diceva, Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che egli ama. Grazie. Laustibi Criste La parola santa di nostro Signore Gesù Cristo cancelli i nostri peccati. Il Patriarca si appresta a tenere l'ombelia, che immagino sarà tenuta in inglese, per cui sarò io a tradurre qualche frase. Il Patriarca si rallegra nel vedere la Chiesa nuovamente piena, gremita di fedeli, e quindi augura a tutti i presenti e a tutti i rappresentanti di tutto il mondo un felice e santo Natale. Ora sta salutando i rappresentanti della nazione palestinese. Sono parole piene di gioia quelle del Patriarca dopo anni di restrizioni e quindi anche di assenza di pellegrini. La sua gioia è palpabile. Sta parlando dei bimbi che hanno affollato il suo ingresso stamattina arrivando proprio qui a Betlemme, un ingresso molto partecipato, molto variopinto. Ecco, dopo i saluti di rito, il Patriarca entrerà nell'ombelia. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il profeta Esaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ancora una volta, dice il Patriarca, ci ritroviamo qui a Betlemme, in questo luogo santo. Per ringraziare, lodare, celebrare l'evento meraviglioso della nascita del Salvatore. Ancora una volta con il profeta Esaia, noi proclamiamo a tutto il mondo che una grande luce è apparsa ai nostri occhi, e una grande gioia ha riempito il nostro cuore. Oggi siamo invitati, come ogni anno, dice il Patriarca, ad inchinarci davanti a questo grande mistero, che è anche un annuncio di salvezza. Il Natale, infatti, non è solo un tempo, forse un po' infantile, di gioia, di festa, di luci, o di bambini felici e di doni condivisi. Prima di tutto... Ecco che il Patriarca sta ribadendo che il Natale non è una festa di bambini, ma la festa, la celebrazione della manifestazione di Dio, ha ribadito il concetto. Prima di tutto è celebrazione, dunque, della rivelazione di Dio nella storia. Natale è lo sguardo e il giudizio di Dio sul mondo, dice il Patriarca. È un giudizio di salvezza, di misericordia, di compassione e non di condanna. La vita del mondo era segnata dal peccato, come dice il profeta. Il mondo di allora era lacerato, diviso, violento, non meno di oggi, lo sappiamo. Ma con il Natale di Cristo qualcosa inizia a cambiare. Con la nascita del bambino di Betlemme, infatti, nasce anche una nuova opportunità di relazione tra gli uomini. Non ci sono stati improvvisi cambiamenti nella vita di quel mondo violento, è vero, dice il Patriarca. Tuttavia, quella intenzione divina, quel desiderio di Dio carico di compassione, che a Natale si è fatto carne e reso visibile in un bambino, poco alla volta, da qui, da questo luogo, ha cominciato ad espandersi in tutto il mondo. E ha portato un nuovo stile di vita, basato sulla dignità di ogni uomo e donna, su una giustizia che non è mai disgiunta dalla misericordia, sul desiderio che tutti siano salvati. Da allora quella intenzione divina, continua il Patriarca, continua ancora ad irradiarsi, portando la sua luce su coloro che abitano in terra tenebrosa, come diceva il profeta. Tuttavia, quel giudizio e quello sguardo di misericordia e di salvezza attendono una risposta. Sono anche un invito rivolto ad ogni uomo ad entrare in quel nuovo modo di vita, modellato su quello stesso desiderio di Dio. E' un richiamo potente e solenne, dice il Patriarca, a vivere in quella nuova luce. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, dice San Giovanni. Celebrare il Natale, dunque, comporta anche una decisione. Si può scegliere, infatti, di non rispondere a quell'invito, come dice il Vangelo di San Giovanni, venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. Perché il cristianesimo è innanzitutto lo stile di vita di chi ha deciso di accogliere l'invito ed essere testimone credibile del disegno di salvezza che Dio ha per tutti. Essere chiesa significa dare concretezza a quel divino desiderio di misericordia che il Natale di Cristo ha reso possibile e tangibile. La comunità cristiana è chiamata, insomma, a rendere vivo e presente in questo nostro mondo il cuore compassionevole di Dio e guardare l'umanità con occhi illuminati dalla sua luce radiosa. Si ha una visione più vera degli eventi del mondo se si guarda anche con il cuore e non solo con gli occhi. E cosa vediamo oggi? Qui, in questo nostro mondo, si chiede il Patriarca. Che cosa sta contemplando la nostra Chiesa di Gerusalemme? Che cosa la luce di Dio porta agli occhi della nostra mente e del nostro cuore qui, in questa Terra Santa? Con gli occhi vediamo che la violenza sembra essere diventata la nostra lingua principale, il nostro modo di comunicare. Vi è violenza crescente innanzitutto nel linguaggio della politica. Abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni per l'orientamento che sta prendendo la politica in Israele, dove si rischia di rompere il già facile equilibrio tra le diverse comunità religiose ed etniche che compongono la nostra società. La politica, dice il Patriarca, ha il compito di servire il Paese e i suoi abitanti di operare per l'armonia tra le diverse comunità sociali e religiose del Paese e tradurle in azioni concrete e positive nel territorio e non fomentare invece divisioni o, peggio, odio e discriminazione. Quest'anno, inoltre, abbiamo visto crescere tanta violenza nelle strade e nelle piazze palestinesi con un numero di morti che ci porta indietro di decenni. È un segno del preoccupante aumento della tensione politica e del crescente disagio, soprattutto dei nostri giovani, per la sempre più lontana soluzione del conflitto in corso. La guerra palestinese, purtroppo, sembra ormai non essere più al centro dell'attenzione del mondo, dice il Patriarca. Anche questa è una forma di violenza che ferisce la coscienza di milioni di palestinesi lasciati sempre più soli e che da troppe generazioni sono in attesa di una risposta al loro legittimo desiderio di dignità e di libertà. Purtroppo la violenza non è solo nella politica, lo vediamo nelle relazioni sociali, nei mezzi di comunicazione, nei giochi, nel mondo della scuola, nelle famiglie e a volte anche nella nostra comunità. Tutto ciò, dice il Patriarca, nasce dalla sempre più profonda mancanza di fiducia che segna il nostro tempo. Non abbiamo fiducia in un cambiamento possibile, non ci fidiamo più l'uno dell'altro e così la violenza diventa l'unico modo per parlarsi. La mancanza di fiducia è ciò che sta all'origine di ogni conflitto qui in Terra Santa e in Ucraina e in tante parti del mondo. In questi contesti così lacerati e feriti, ricorda Monsignor Pier Battista, dunque la prima e più importante vocazione della nostra Chiesa è aiutare a guardare il mondo anche con il cuore e ricordare che la vita ha senso solo se si apre all'amore. Celebrare il Natale per noi comunità di credenti in Cristo significa creare, promuovere ed essere occasione di misericordia, di compassione e di perdono. Significa portare nella vita del nostro contesto così ferito quel desiderio carico di compassione che Dio ci ha manifestato con la nascita di Gesù. Significa avere il coraggio di gesti che costruiscano fiducia. La fede in Dio, infatti, deve sostenere la nostra fiducia nell'uomo, dare fondamento alla nostra speranza e tradursi in gesti di amore gratuito e sincero. La pace, continua il patriarca, che tutti desideriamo, non nasce da sé. Essa attende uomini e donne che sappiano tradurre in azione concreta e tangibile nelle piccole e nelle grandi cose di ogni giorno lo stile di Dio. Persone, cioè, che non abbiano paura di incarnarsi nella vita del mondo e che con gesti di amore gratuito sappiano risvegliare il desiderio di bene che alberga nel cuore di ogni uomo. Il Signore Gesù, il Salvatore nato qui a Betlemme, ha detto Beati gli operatori di pace. Lui stesso ha dato la vita sulla croce e con il suo amore ha vinto la morte. Ci ha insegnato che l'amore vince la morte. Non è impossibile. La testimonianza di tanti uomini e donne qui, nella nostra Terra Santa, in tante altre parti del mondo, ci dice che quello stile, che quel modo di celebrare il Natale è possibile ancora oggi nonostante tutto. Il mio augurio, allora, conclude il Patriarca, è che il bambino Gesù risvegli anche in noi, ancora una volta, il desiderio di bene per ciascuno. Rafforzi la nostra fiducia in ogni uomo e sostenga la nostra azione di pace, la misericordia e la giustizia, in Terra Santa e nel mondo. E conclude con un augurio di Buon Natale in arabo. Carissimi, ora state vedendo un gesto che probabilmente non è, non capita di vedere nelle nostre celebrazioni, nelle nostre liturgie. avete visto che il Patriarca è sceso per salutare il Presidente della Palestina e altri esponenti dello Stato palestinino.